Beh, quel sabato mattina ero insieme alla mia famiglia, come normalmente passo il sabato mattina, ero uscito fuori da fare colazione, mi trovavo nei pressi di Piazza del Comune e ho sentito una signora che gridava e mi è rimasto impresso dalla frase «Nessuno lo ferma» e nel girarmi ho visto una persona che stava scappando, non so con ben che cosa in mano, allorché quando la persona, visto che lo avevo incrociato con gli occhi, ha aumentato l'andatura e non ci ho pensato due volte e gli sono corso dietro. Gli sono corso dietro, è stata una corsa fino a via dell'Accademia dove poi insieme a me sono sopraggiunti altre persone e la persona poi ha desistito, si è arresa, allorché poi dopo le persone che erano vicine si sono rivalati degli agenti di polizia, a quel punto lì ho salutato e sono tornato alla mia famiglia. Ecco, un gesto premiato significa che non è un gesto comune? Beh, vorrei che questo appartenesse a tutta la città di Prato, in maniera da potersi riprendere un pochino la nostra città. Io sono pratese e sento tantissimo questo onore di essere a Prato, quindi lo ricevo ancora più che mai questo premio. Invito a tutti a avere magari un pochino più di senso civico, magari un pochino più di coraggio nei limiti del possibile della sicurezza perché sono argomenti molto pericolosi da affrontare. Ecco, lei è istruttore di arti marziali, è un po' facilitato in questo senso? Beh, diciamo che da una parte c'è questa facilità, però le arti marziali di per sé nascono soltanto come arma di difesa, quindi chi le usa, chi pratica queste arti marziali sa benissimo che non devono essere messe in pratica. Stembrano soltanto avere un maggiore controllo, avere una maggiore capacità di vigilanza, allorché poi di non utilizzarle in casi di estreme necessità. Si fa arti marziali per avere appunto maggiore sicurezza. Il discorso forse di rincoro lo avrei fatto in qualsiasi condizione perché lì sta proprio nella mia persona, cioè mi disturba vedere quando succedono delle cose così, per cui sarei partito lo stesso.